Buonasera a tutti, in questo video vi parlerò praticamente delle preparazioni alle mostre. Ecco, siamo a luglio, sembra molto presto, ma invece è il momento giusto per intervenire. Come sempre io mi rivolgo ai giovani, non agli esperti che sanno come fare, quindi ecco, in questo periodo dobbiamo iniziare la preparazione, quindi perché? Perché? Siamo, ecco, al 15 luglio, quindi mancano per il periodo delle mostre che sono il 10 ottobre, più o meno, quindi 80 giorni, 80, 90, 70, dipende insomma dalla data della prima mostre, ecco. Quindi come si prepara un uccello a un'esposizione? Partiamo quindi da questo presupposto. I giovani che sono stati svezzati sono nelle voliere, poi faremo un altro video in un altro giorno, vi faremo vedere proprio come si fa, anche se l'ho già fatto in passato. Dato che i giovani quindi sono stati nelle voliere da quando sono stati svezzati fino ad adesso, quindi praticamente dai primi, da febbraio fino ad adesso, ci sono dei canarini che sono praticamente con le piume spezzate, quindi queste, con le penne, scusate, non con le piume, con le penne spezzate, che possono essere le penne delle ali o le penne delle cose. Queste penne spezzate vanno strappate, poi ripeto vi farò vedere come, e quindi il canarino poi va isolato, messo da solo, quindi in una gabbia da solo, in modo che queste penne ricrescano integre e poi non vengono più spezzate. Affinché questo avvenga, naturalmente il canarino deve restare da solo, da adesso fino al periodo delle mostre, che ripeto, sembra tantissimo tempo, ma in realtà non lo è, perché se voi considerate che siamo al 15 luglio, fino al 15 settembre sono passati 60 giorni, quindi se considerate che quando strappate una penna occorrono più o meno 55 giorni affinché questa ricresca completamente, quindi capirete che occorrono quasi due mesi e poi gli altri giorni che rimangono, 10-20 giorni in più che diciamo rimangono, il canarino potrà stare tranquillo nelle sue gabbiette. Ecco, poi quindi ecco, in questa prima fase noi scegliamo i soggetti migliori, i soggetti più promettenti, quindi facciamo questa operazione di metterli da soli, poi andremo nell'altra stanza dell'allevamento per farlo vedere come facciamo, e quindi ecco, solo i soggetti migliori vengono, diciamo così, messi in isolamento, quelli che naturalmente si riescono a introvedere. Mettiamo insieme a quelli migliori anche quelli per i quali abbiamo un dubbio. Gli altri vengono lasciati poi nelle voliere, poi passando il tempo può capitare che anche tra quelli ce ne sia uno bello e poi viene insomma tirato fuori. L'importante è fare questa operazione adesso proprio ecco per una questione proprio di ricrescita delle piume. Ecco perché mi state vedendo mettere tanti video di cluster singoli, perché ecco, li sto togliendo dalle voliere e li stiamo mettendo quindi nelle gabbie singole. Poi viene un'altra fase che è quella del destramento, vedete, poi faremo un altro video a parte. Il destramento per esempio che per i nordici avviene in questa gabbia e per i cluster in questa gabbia. Tanti confondono queste due gabbie ma non sono la stessa cosa. Vedete che questa gabbia dei nordici è più alta, è proprio più alta e ha invece però più o meno la stessa lunghezza. È solo leggermente, diciamo così, più alta. Ecco, quindi poi i canarini vanno abituati a questa gabbia con una tecnica. Questa gabbia viene appesa alla gabbia, diciamo, dove sono alloggiati e poi loro da soli entrano ed escono da queste gabbiette e si abitano poi per le esposizioni. Quindi ecco, proprio esattamente come per un concorso di bellezza femminile, anche per i canarini, avviene una tua rettatura, quindi vengono presi, lavati, sistemati e si aspetta quindi il periodo delle mostre che generalmente inizia intorno al 10 ottobre e poi si potrà fino a gennaio e termina poi con i mondiali. Grazie a tutti, quindi spero sempre di esservi utile. Ripeto, faremo poi un video più dettagliato su come si prepara un canarino all'esposizione. Grazie e a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.